Dell'ultimo quarto a Carton Myers, perde palla, Gero Malen, guardate come va in contropiede. E direi che l'ho imparato bene perché oggi anche Alex non è più un ragazzino ma un giocatore importante in queste circostanze. Ottimo questo tiro di Righetti. Uh che distrazione, bravi i bolognesi e bravo Focca.